Bella a tutti ragazzi, come Widskriparle? Oggi siamo qua con il primo Hunger Games su questo canale E siamo su Hunger Games Italia E c'è troppa gente Scegliamo il kit perchè tra un po' inizia Io il kit non lo so non tanto esperto perchè penso che sia la seconda o terza patria che faccio Quindi non lo so Però mi è piaciuto molto il camper Vai scegliamo il camper anche se nell'area in Call of Duty in tutti i giochi FPA WTF? Il mouse WTF? Il mouse è svappato in brutto Ma che cazzo? Vabbè Morirò subito lo so C'è è svappato in brutto il mouse Vabbè Tanto Giochiamo in condizioni improbabili non riesco neanche a girare la testa Cioè Mamma mia Flottiamo Oddio Oddio troppa gente No scappi Allora Calma che si Calma I frame Ok Fuglie 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 Wai Oddio Si da alcuni scatti di lag C'ho il mouse che Mettiamo così non lag No no Brutto Brutto Adesso è Short Fuglie Fuglie Wai Fuglie Troppa gente Troppa gente Moio Lo so che moio Si non riesco neanche a girare Oddio Tenetevi conto Rega non riesco neanche a girare la testa Qua c'è uno Voglio Ciao Ciao Vuoi che pare Muori bastardo Muori Muori Non l'ho ucciso Io mi sa Vabbè vabbè uccidiamo anche questo Lo becco Aia Ti è morto What the fuck Ma che cazzo Ma che cazzo fa quello Come cazzo ha fatto colpito Ma lo spieghi Ma che cazzo Ma va Fangulo Va Serve di merda Con la prima partita Andiamo benissimo Mamma mia Non fa rientrare Vero Si Magari Vabbè C'è sto video qua Dato un minuto Non guardo Se lo carico Se lo vedete bene Sino Amin Vabbè dai Aspetto l'altra partita E ti vediamo Nel prossimo video Bella Putana